Oggi mi trovo a Cisano sul Neva. Siamo qua in un posto meraviglioso perché solitamente siete abituati a sentirmi parlare di pianeti, di segni. In realtà quest'oggi farò molto di più, vi parlerò del cielo e della terra, della madre terra. Io ho un problema, ho Mercurio e un Sagittario. Beh, questo mi crea sicuramente un pochino delle dimenticanze, però una cosa me la posso ricordare, che è bellissima l'associazione tra pianeti e piante. Sì, proprio così, se volete scoprire che tipo di associazione c'è tra queste due cose, madre terra e cielo, non potete mancare. Vi aspetto sabato 15 aprile alle 15.30. Sì, ascoltate bene, 15.30, vivaio Montino. Attenzione, una cosa importante, ingresso libero, libero, quindi dovete essere tantissimi. Vi aspettiamo!